Una tavola pronta con tutti gli ingredienti per cucinare prodotti tipici della Liguria dopo aver ascoltato le campane della chiesa di Sant'Antonino di Breccanecca ecco che Maria Stella che abbiamo già conosciuto all'inizio ci prepara che cosa? Dei panzotti alla Ligure. Come si fa? Allora si parte impastando della farina doppio zero normalissima un chilo di farina tre uova un cucchiaio di olio e un pizzico di sale questo è l'impasto si lascia riposare per una notte dall'impasto poi si ottengono delle sfoglie che adesso andiamo a preparare invece per il ripieno bisogna usare il prebugiù che è un misto di erbe tipiche della zona e che è cosa diversa dal prebugiù che in certe valli usa che è un misto di cavoli e patate vero? Esatto. In che stagione si trova il prebugiù in questo? Questo in primavera infatti adesso è raro proprio. Ok. Dunque per il ripieno si parte da pestare nel mortaio la maggiorana il sale grosso e l'aglio si pesta fino a farlo diventare una poltiglia dopodiché si pestano si fanno abbrustolire dei pinoli si pestano anche questi nel mortaio si ottiene una poltiglia che viene sciolta con dell'olio poi si aggiungono le uova si aggiungono queste erbe fatte all'essare e poi passate nel burro si aggiunge del formaggio grana delle uova e della ricotta si impasta tutto quanto si ottiene questo ripieno mamma mia che bello bello consistente bello consistente e gustoso adesso procediamo a fare qualche tira la pasta diciamo pan sotto quanto deve essere spessa la pasta e non deve essere tanto spessa e wow basta un giro ne servono di più ne serve ancora uno per farla un pochino più sottile di cosa può succedere ai profani che si rompe che si aprono poi se non è della giusta consistenza in cottura poi si aprono e può succedere già che si strappi sta pasta e si può succedere anche sì ma lei chissà quanti ne ha fatto poi cucchiaino cucchiaino dito e li sistema un po lungo tutta a una distanza che consenta poi di poterli di poterli chiudere e tagliare allora ne possiamo mettere ancora due poi se vuole si fa vedere direttamente la procedura vista da maria stella sembra tutto facile ma è tutt'altro che facile adesso ovviamente deve stendere anche quella da mettere sopra altre due volte quanto ci vuole a fare la pasta diciamo il ripieno il più è preparare le andare a cercare le erbe prepararle poi in un attimo si fa certo che anche conoscere il prebugio non è facile bisogna conoscerlo tradizionalmente altrimenti nessuno può sapere quali sono quelle buone quelle si impara da da nonna mamma da mamma figlia adesso mette sopra e si schiaccia con le dita i lati si fa uscire l'aria perché altrimenti altrimenti non si chiude bene in mezzo a stabilire le prime divisioni da forma mamma mia che si taglia con la rotella che precisione così ne usciranno sei da questo ne usciranno sei le deve trovare il punto giusto per non tagliare troppo vicino troppo lontano altrimenti altrimenti non chiude bene però sono già chiuse automaticamente si si e poi si condiscono con la salsa di noci e quanto cuociono e come vengono a galla che alzano il bollore sono cotti perché la sfoglia è talmente sottile che che belli e salsa di noci rapidamente come si fa la salsa di noci io sgarro un po la tradizione ma la faccio nel frullatore vabbè vabbè mentre il pezzo lo faccio nel mortaio la salsa di noci nel frullatore noci sgusciate pelate pelate come si fanno a pelare si mettono il bagno in acqua calda si lasciano un pochino in ammollo e poi con pazienza si toglie tutte le pelle accidenti e poi si mette molica di pane bagnato nel latte olio e basta sale un pochino di sale si può mettere anche l'aglio dipende dai gusti dei gusti prepara un'altra cosa testa io testa roli che sono noti ho scoperto soprattutto qua nel levante non tanto nel resto della liguria quindi sono convinta che molti telespettatori rivedranno per la prima abbiamo un po di farina è una cosa semplicissima un po di sale fino e poi acqua acqua fredda acqua fredda sì sì fino a ottenere una pastella che sia morbida ma non liquida da poterla mettere poi nei testetti poterla mettere poi nei testetti tradizionale questo era il mangiare povero di tutti i giorni qua in collina leggermente a favore di telecamera grazie maria stella era il mangiare povero e sì perché un po di farina c'era tutte le parti e l'olio era in abbondanza quindi si mangiavano con olio e formaggio e che fortuna che anche nel passato l'olio fosse in abbondanza perché fa benissimo e pensiamo alle regioni che non hanno l'olio ad esempio soprattutto quelle dell'estremo nord d'italia usavano il burro al posto dell'olio perché non c'erano gli ulivi vedete bisogna stare attenti a non fare i grumi ovviamente per dare un'idea insomma di quanto deve diventare densa più o meno quella lì è la densità tolti tutti i grumi che faccia la lasagna poi ecco che dipenda un po' sì esatto fare la lasagna un termine in gergo allora non ci resta che trasferirci fuori per farli cuocere farli cuocere che è una tecnica molto bella siamo arrivati alle battute finali marino è arrivato qua nel giardino per fare che cosa sta io quindi cosa sta facendo adesso abbiamo messo a scaldare i testetti sono i testetti perché li conosciamo nel levante i testai e testetti ma nel resto la liguria non tanto sono dei contenitori e vedere così sembrano di terra cotta ma è una terra speciale che si trova qui nell'entroterra in val graveglia ai scioli oppure nella zona dello spezzino aulla pontremoli potenzano anche se qua forse li condiamo in modo diverso rispetto alla zona che ha citato sì qui prevalentemente col pesto possono essere conditi anche con la salsa di noci olio a formaggio semplicemente mentre dalla parte dello spezzino dove sono chiamati testaroli o panigacci che sono stretti parenti di questi vengono conditi anche col sugo con salumi mangiati come pasta anche vero li tagliano a pezzi li mangiano vero maria stella li fanno bollire e poi li condiscono col sugo esatto allora veniamo ai nostri come si fanno a preparare e soprattutto a sapere quando è il momento giusto per toglierli dal fuoco e metterci la pastella quando sono roventi si tolgono si lasciano giusto qualche secondo che si stemperano un attimo e poi si mette la pastella come vediamo ecco come fate a sapere che sono roventi perché cosa succede maria stella se non è la temperatura giusta del testetto rimangono attaccati e si fa una brutta figura adesso noi vedremo perché da quanto l'ha lasciati su questo fuoco mezz'ora ok mezz'oretta vediamo se riesce con maria stella se tutto va bene ed ecco qua si appoggia guardate che meraviglia questa è proprio tradizione che non deve essere persa tradizione che va portata avanti ecco quello viene messo sopra maria stella poi un altro strato non bisogna anche azzeccare la quantità di tassi perché altrimenti strabordo oppure viene troppo sottile guardate uno sopra l'altro praticamente cuoce quello che viene messo sopra cuoce la parte superiore quella sotto cuoce ed ecco che basta eccoci qua ne teniamo ancora uno poi per eventuali seconde battute dovesse andare male ma sono convinta che andrà bene vi si rompono ogni tanto i testi si è un pochino i testi si rompono e adesso cuoce in tempo reale guardate come cambia colore la pastella che ha preparato con acqua farina e sale semplicemente avete visto la densità il tempo proprio si inizia a sentire il profumo di abbrustolito e poi voglio vedere come fa a toglierli però con le mani non con le mani se tutto va bene si tolgono semplicemente però dovete sollevare i testetti con attenzione non sì sì certo un po di fumo vediamo se peste pronto vediamo se i testetti sono pronti se è venuto l'esperimento guardate con quanta maestria perfetto direi il primo è pronto e si deve fare anche veloci perché ragazzi qua se no bruciano non è mica così facile ecco questi sono venuti bene maria stella mi sembra di sì dai mi sembra che siano venuti bene anche con i tempi televisivi sembra fatto apposta e adesso vedremo ne fondiamo bravo pesto fatto in casa sicuramente certo nel mortaio in abbondanza e un po di formaggio ed ecco che è pronto è pronto per essere mangiato benissimo complimenti complimenti veramente io vi ringrazio perché è stata una puntata secondo me bella spero lo sarà anche per i telespettatori tra le campane che voi suonavate e questi piatti tipici ce n'è veramente per tutti i gusti grazie a tutti voi grazie a maria per le immagini e presa diretta torna la prossima puntata grazie a tutti